5 4 3 2 1 vai 50 per sinistra 4 50 sconnessi tornantone destro per destra 3 apre 50 e al bidone sinistra 2 bravo alla chiesa destra 3 20 destra 4 no in sinistra lunga 30 destra 3 in due tempi no per sfiora sinistra 20 destra 3 apre 50 accenno destro per sinistra 4 volto lunga sporca no e subito inversione destra 70 sinistra 5 lunga in accenno sinistro accenno destro e al dosso subito destra 4 30 sfiora destra 50 scon con entrata sinistra 70 vista bravo alla siepe sfiora sinistra sfiora destra in destra 2 50 bravo destra 4 per tornantone sinistro 50 al dosso stai a destra per accenno destro per sfiora sinistra sfiora destra 100 e inversione sinistra 50 50 occhio all'olio sinistra 4 in destra 4 diventa 6 apre 200 per destra 3 apre per accenno destro per accenno destro per accenno destro in destra 4 in destra 2 5 in sinistra 2 6 come prima 20 destra 3 apre per tornante sinistro in tornante destro in sfiora sinistra 100 destra 3 in tornantone sinistro in tornantone sinistro allargalo sto qua eh per destra 5 bravo in destra 4 diventa 3 apre 20 sfiora sinistra e tornantone sinistro in destra 4 in destra 3 in due tempi e al cartello sinistra 5 apre 5 apre 5 apre in accenno sinistro per accenno destro in destra 3 apre 20 accenno sinistro e subito sinistra a 4 in due tempi 50 destra a 4 20 destra a 4, apre e taglia per sfiora a sinistra in sfiora a destra 20 e ai bidoni stai sinistro ai cartelli sinistra a 4, apre 50 destra a 5 per sfiora a sinistra 20 stai a sinistra in destra a 4, apre 50 destra a 3, meno gira per sfiora a sinistra prova a riaccenderla vai 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 che ce la fai ok bravo amore, bravissimo mantieni la calma sfiora a sinistra 50 pulisci bene le gomme che saranno sporche sfiora a destra sfiora a sinistra 50 accenno a sinistro e subito alle frecce destra a 3 chiude occhio per sinistra a 5 è lunga in destra a 4 in accenno a sinistro stop ok 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 Grazie a tutti